è arrivata la ferrari puro sangue dopo quattro anni di sviluppo ecco l'attesissimo primo suv di maranello con soluzioni inedite e anche estreme e la spinta dell'iconico motore v12 scopriamola nei prossimi minuti nei suoi principali elementi partiamo come di consueto dal suo design stile unico con un mix tra stilemi sportivi e elementi delle vetture rialzate l'esterno propone un frontale da sportiva dominato dal cofango ma anche dall'assenza di una vera e propria calandra sostituita da un diedro sospeso sulla parte inferiore una delle caratteristiche più distintive della puro sangue sono le portiere con apertura al libro con una fiancata caratterizzata da un passaggio d'aria e da un muscoloso passo a ruota fino al posteriore le dimensioni vanno dai 4,97 metri di lunghezza ai 2,03 metri di larghezza con un'altezza da 1,59 metri ed un passo di 3,02 metri il bagagliaio ha una capienza di 473 litri con un portellone posteriore dotato di apertura elettrica per un'apertura a 73 gradi per favorire l'accesso al baule e poter caricare con semplicità anche i bagagli più voluminosi aprendo le portiere si può notare un salotto sportivo ed elegante con uno spazio importante ma anche una sensazione di lusso e modernità l'abitacolo della ferrari puro sangue è omologato per quattro persone con quattro sedili indipendenti compresi anche i due posteriori al posto del più classico divanetto il posto di guida è ispirato a quello della sf 90 stradale con il cruscotto digitale dove poter vedere tutte le informazioni relative alla guida anche la connettività con apple carplay e android auto anche il passeggero anteriore può avere accesso a tutte le informazioni grazie ad un grande display da 10.2 pollici davanti al proprio posto i materiali sono di prima qualità con l'85 per cento dei rivestimenti della vettura di lancio prodotti con materiali eco sostenibili e alcantara poliestere riciclato sotto al cofano c'è il v12 per questo modello anche se si era parlato di soluzioni ibride nei mesi scorsi ma la scelta è ricaduta su questo propulsore che farà sicuramente felici tantissimi appassionati della rossa con i suoi 725 cavalli e 716 newton metro di coppia le prestazioni di conseguenza sono da urlo lo scatto 0 100 viene bruciato in 3.3 secondi e la velocità massima è superiore a 310 chilometri orari numeri impressionanti se consideriamo il peso superiore a due tonnellate in più è presente il cambio formula 1 a doppia frizione ad otto rapporti le sospensioni attive è un sistema che riduce il rollio il beccheggio e assorbe nel migliore dei modi le irregolarità del terreno la ferrari puro sangue arriverà sulle strade nel secondo trimestre del 2023 quando sono in programma le prime consegne mentre il listino prezzi è pari a 390 mila euro